buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione oggi parleremo di obesità 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 e ipnosi vera e professionale perché tanta gente fa milioni non migliaia milioni di diete eppure il problema rimane sempre lì perché parlano alla parte sbagliata della loro mente che la coscienza che la logica che la razionalità che mette tutti in dubbio adesso tu puoi con l'ipnosi vera e professionale sederti presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona e iniziare a capire perché tu sei diventato oppure sei obeso anche da quando eri piccolino e piccolino non credere a nessuna parola del sottoscritto documentati chi domanda comanda oppure mandami un'email ai prologi associati che oggi alla libro punti ti dirò come fare ti darò dei consigli preziosissimi e gratis compatibilmente sempre con i miei impegni i miei tempi perché sono spesso all'estero fammi tutte le domande del caso a visita la mia fan page su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino visita il mio sito internet www.ipnologi associati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione dices del dottor claudio saracino e faccia il condividi con amici parenti perché può essere quel quid che gli cambia veramente la vita come è successo a me tantissimi anni fa e vista anche i miei profili instagram e twitter e benessere ipnosi soluzione dices del dottor claudio saracino e al prossimo video un bacio un abbraccio